Nel comune di Roasio proponiamo in vendita terreno edificabile di 1860 metri quadrati. L'immobile si trova a circa 13 chilometri dal casello autostradale di Romagnano-Sesia, circa 15 minuti di auto. L'immobile si trova a circa 15 minuti di auto. L'immobile si trova a circa 15 minuti di auto. L'immobile si trova a circa 15 minuti di auto. L'immobile si trova a circa 15 minuti di auto. L'immobile si trova a circa 15 minuti di auto. L'immobile si trova a circa 15 minuti di auto. Per tutte le informazioni chiama o scrivi una mail, siamo sempre a tua disposizione.